Le prenotazioni per Natale nelle strutture ricettive a Salerno e Provincia vanno a rilento, ma le associazioni di categoria prevedono un'impennata nei prossimi giorni. In particolare per il capoluogo si annuncia il tutto esaurito per la notte di Capodanno con il concerto in piazza dei Pù. Nel frattempo è scattata una polemica sui prezzi negli hotel. Ad accenderla il presidente regionale dell'ABAC Campania, Agostino Ingenito, parlando di speculazione sui costi delle camere da letto. Alcune stanze, ha detto, sono arrivate a 300 euro. Non è accettabile. Immediata la smentita del presidente provinciale di Federalberghi, Antonio Ilardi, i prezzi sono in linea con quelli praticati in tutte le città italiane in questo periodo e sono coerenti a livello qualitativo delle attrazioni programmate, quali luci d'artista e il concerto di Pù previsto a Salerno. Questo è anche il periodo dei bilanci sull'anno che va via. Sul fronte turistico resta indietro il cilento. Complessivamente il 2023 è stato un anno straordinario in termini di risultati per l'industria turistica italiana. In provincia di Salerno si sono avuti ottimi risultati in costiera amalfitana, che ormai ha un livello di internazionalizzazione del turismo altissimo. Si sono avuti ottimi risultati nel comune capoluogo, meno nel cilento che è troppo squilibrato sul concetto di turismo di prossimità. Cioè attrae troppi visitatori italiani dei dintorni, anziché andare a puntare su fasce di turismo estero. Per questo sarebbe opportuno modificare una serie di eventi nel cilento, modificare una strategia di marketing complessiva del cilento per renderla più performante sui mercati internazionali. Il 2024 si prospetta allo stesso tempo un'ottima annata, abbiamo già tantissime richieste di turisti dall'Australia all'Asia.